Erano sfuggiti al provvedimento di arresto a loro carico nell'ambito dell'operazione Adranos, eseguita a martedì scorso e che ha portato allo smantellamento del clan Sant'Angelo Taccuni di Adrano, in provincia di Catania, rendendosi irreperibili. A finire in manette nelle scorse ore, con le accuse di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio, estorsione, rapina, furto ed altri reati contro il patrimonio in materia d'armi, sono i due pregiudicati Salvatore Foti, di 49 anni, detto Turiu Shecku, e il ventenne Antonio Longo, meglio conosciuto come Unanu. A portare gli uomini della squadra mobile di Adrano ad eseguire un ulteriore controllo presso l'abitazione di Foti, il sentore che questi vi avesse fatto rientro. L'uomo, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di sottrarsi alla cattura, fuggendo sui tetti e rifugiandosi all'interno dell'abitazione di un ignaro vicino, dove è stato successivamente rintracciato e tratto in arresto. Longo, invece, anche lui ricercato, si sarebbe presentato spontaneamente lo scorso pomeriggio presso gli uffici del commissariato di Adrano, dove gli è stata notificata la misura cautelare. I due sono stati quindi trasferiti in carcere.